bentornati a tutti nel mio canale e oggi l'argomento che andremo a trattare è un argomento alla fine recente un problema che c'era recentemente con youtube e soprattutto questo riguarda sia voi che soprattutto noi insomma creator digitali perché abbiamo riscontrato insomma un pochettino tutti i problemi nei commenti prende i commenti che nei nostri video vengono disattivati in automatico certe volte nemmeno ci accorgiamo che sono stati disattivati commenti proprio perché non commenta nessuno quindi non è diciamo un discorso dovuto da noi almeno in alcuni casi che non vogliamo rispondere insomma quindi anche se voi commentate noi non riusciamo a commentare non vogliamo commentare anzi è proprio perché non riusciamo a commentare non riusciamo a rispondere perché voi a prescindere come intenti iscritti e non iscritti insomma chi capita nel canale e a guardare i nostri video non riesce a commentare proprio perché sono disattivati siccome vedo che sta succedendo un pochettino a tutti andiamo a capire perché allora diciamo che togliendo proprio da parte che non è il creator perché il creator può decidere se disattivare in un determinato video i commenti appunto che volete fare voi oppure proprio per tutto il canale vuole disattivare i commenti quindi in questo caso togliendo che è una cosa che proprio dipende da noi quindi è una nostra scelta disattivare i commenti però quando il creator non sceglie questa via quindi quella della disattivazione dei commenti appunto perché un canale insomma è bello proprio perché ci sono diverse idee quindi ci sono diversi punti di vista chi è d'accordo chi non è d'accordo sempre rimanendo nell'educazione quelle come prima regola credo per qualsiasi canale ma in questo caso dato che stiamo parlando del mio canale qualsiasi idea va bene basta che la risposta sia fatta con educazione massima educazione io molti commenti li elimino e direttamente provvedo al ban del immediato del dell'utente non mi interessa se un iscritto a maggior ragione se non è un iscritto ma non mi interessa nemmeno se perdo quell'iscritto perché comunque alla base insomma del canale delle regole c'è ci deve essere l'educazione quindi questa come regola nel mio canale sono completamente benvoluti tutti i commenti sia positivi che negativi però ovviamente con la massima educazione sono ovviamente il ban immediato sia dell'iscritto che non questo ci tenevo a precisarlo quindi quando voi proprio non riuscite a commentare comunque sotto qualche video è proprio perché youtube quindi o per nostra scelta abbiamo capito che se non è per nostra scelta c'è un problemino però qual è questo problemino che c'è allora potrebbero essere alcuni punti per esempio potrebbe essere che noi abbiamo detto che quel video è adatto per esempio a bambini e invece magari all'interno si trovano contenuti che non sono adatte bambini quindi in quel caso youtube blocca praticamente i commenti secondo poi potrebbe essere proprio anche un'impostazione stessa fatta da youtube per diciamo fra virgolette proteggerci quindi proteggere noi creator digitali quindi non si capisce bene il motivo qual è la protezione ovviamente sì è la protezione da commenti diciamo da insulti se così si può dire però se nemmeno una singola persona direttamente riesce a commentare non si capisce proprio perché vengono disattivate magari prima si dovrebbe ricevere magari un insulto una frase insomma una parola che non è adatta per rimanere su youtube con la polisi di youtube con la polisi del nostro canale magari dato che abbiamo dato un taglio molto più leggero al canale quindi direttamente youtube blocca però almeno un segnale ci deve essere per andare a bloccare questi commenti però youtube spesso e volentieri magari blocca propri commenti a prescindere quindi in questo caso che si deve fare questo è un video adatto a tutti però per lo più serve a noi creator quindi ad altri credito magari non chi ha già anni alle spalle di di pubblicazione di video perché già sa come andare a attivare i nuovi commenti ma magari un video adatto per quei creator digitali che si stanno immettendo ora in questo mondo e soprattutto per voi utenti soltanto come spiegazione perché non potete commentare quindi almeno sapete il perché non dipende nella maggior parte da noi ripeto se non abbiamo deciso di disattivare i commenti ma dipende purtroppo da youtube da alcune regole di youtube quindi in quel caso ora vi cambiare inquadratura inquadrerò il canale vi farò vedere proprio come andare a attivare nuovamente commenti e soprattutto non è detto che nonostante l'attivazione youtube non decida nuovamente dopo che vi posso dire un'ora due ore qualche giorno di ribloccare i commenti quindi in quel caso vi consiglio di andare nuovamente a eseguire la procedura di attivazione di commenti però in quel caso contattare il sito stesso di youtube e capire perché quel video in particolare tende ad avere i commenti bloccati cambiando inquadratura vi faccio vedere come riattivarli immediatamente eccoci qua all'interno del canale allora abbiamo detto che per riattivare i commenti su quel determinato video non dobbiamo fare altro che recarci su contenuti quindi andando su contenuti dobbiamo andare a vedere qual è il video da andare a fare questa riattivazione dei messaggi ammettiamo che per esempio io ho avuto problem problema col mio ultimo video per esempio risolvi il problema segue il video che sarebbe il problema della formattazione con windows per quanto riguarda le partizioni gpt da andare a pulire il video ovviamente non ha nessuna restrizione come potete vedere è adatta ad un pubblico quindi non privato in più non è adatto ai bambini il mio canale non è un canale adatto ai bambini in generale quindi memorizzata questa cosa non posso ritrovarmi con i messaggi disattivati però nonostante ciò youtube ha deciso di disattivare i messaggi in questo caso che si potete fare non dobbiamo fare altro che entrare nel video in questo caso il mio video sarà questo di qua quindi ci cliccheremo all'interno una volta che clicchiamo all'interno che ci troviamo all'interno praticamente qua abbiamo il titolo qua abbiamo tutto quello che non abbiamo impostato nel nostro video e abbiamo le playlist insomma per quanto riguarda il mio canale informatica a quale playlist appartiene abbiamo deciso in questo caso ho deciso di non destinarlo ai bambini in questo caso però io devo andare a cliccare su mostra altro quindi in questo in questo caso ci saranno tutti gli altri sottomenu dobbiamo soltanto scendere in basso ed in questo caso andare sino alla voce commenti e valutazioni in questo caso i messaggi sono messi su on però ieri erano messi su off in questo caso nuovo lo trovate sicuramente il video in questo modo quindi andando ad evidenziare il tastino off significa che nessun utente che è iscritto non iscritto al vostro canale può commentare quel video quindi in questo caso da off vi basterà soltanto andare a cliccare praticamente on ovviamente con l'impostazione già predefinita per quanto riguarda la moderazione dei commenti quindi in quel caso il mio canale ha un tot di parole che non possono essere inserire perché uno ovviamente non verrà inserito il commento 2 si rischia il ban per quanto riguarda il mio canale il ban immediato sia dell'iscritto che non dell'iscritto quindi in questo caso è messo ora su on non vi rimane altro che cliccare su salva e direttamente ora il vostro video presente avrà i commenti di nuovo fattibili quindi in questo caso abbiamo visto quanto è semplice andare a riattivare questi commenti però come vi dicevo poco anzi anche facendo l'attivazione può essere che youtube vi disattiverà in futuro in quello stesso video in qualche altro video il commento magari dopo qualche oretta dopo qualche giorno quindi in questo caso fate di nuovo la procedura però dopo di che vi consiglio di contattare come ho detto prima youtube è capire perché quel video da questi problemi di non poter commentare con insomma qualsiasi tipo di frase il video stesso che avete pubblicato spero di avere fatto capire ovviamente a una determinata cerchia di persone in questo caso serve molto per il creator il video e ovviamente facciamo capire tutti anche io stesso faccio capire perché alcune volte qualche mio video non può essere commentato che dirvi spero di avervi aiutato e ci sentiamo sicuramente al prossimo video ciao ciao